Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Punch Club. La volta scorsa è episodio mega sintesi in 5 minuti e oggi vedremo di ripetere appunto, diciamo, la stessa formula. Allora, vediamo un poco, siamo messi male come cibo, quindi io direi di, scusate, andare a mangiare molto velocemente, a piedi sì, intanto siamo vicini. Quindi, fortunatamente abbiamo qualche gruzzolo della volta scorsa, allora ordina pizza 2, perfetto. Ok, ora dobbiamo riposarci perché comunque siamo messi male come energia. Inizia la scrizione domani, va bene, torna a casa, perfetto, riposati. Ok, e come abbiamo visto appunto dall'episodio precedente, siamo diventati il pugno nero, quindi il nuovo eroe in città. E ora, ovviamente, quando la valigetta ci segnalerà qualche crimine, noi potremo intervenire e salvare appunto il malcapitato in questo caso. E allora, andiamo a rimangiare perché dormendo si perde energia, ok. E io direi di andare a casa e allenarci. O sennò meglio ancora in palestra, ragazzi, che è molto più efficace. Allenamento con silver, combattimento di allenamento, allenamento handpad. E ovviamente i soldi non mi bastano, che è camurria. Vabbè, facciamo un taglio e ci rivediamo dopo. Ok, ragazzi, rieccoci qua da silver, ho guadagnato un po' di soldi e andiamo a fare un combattimento di allenamento. Così abbiamo i venti. Ok, lasciamo tutto invariato, anziché però questo mettiamo il pugno alto e andiamo a combattere. Come vedete, stiamo raggiungendo il livello di silver, siamo ovviamente vicini. In modo tale, poi magari, non lo so, ci sbloccherà qualche altro tipo di allenamento. Vedremo insieme cosa accadrà, appunto. Comunque sia, siamo messi male nella classifica generale. Devo impegnarmi di più per salire di livello. Che saranno di questo passo le andremo a perdere, veramente tutte, di malo modo. E allora, vediamo di batterlo. Mettiamo velocità 4. Ok, 9 di punti d'esperienza. Vediamo un poco se posso sbloccare delle attività. Vabbè, facciamo iscriviti al torneo. Posizione attuale nono, anzi, pensavo peggio. E allora, le abilità, vediamo un poco, no, 10. Quindi facciamo un allenamento handpad. Per oggi basta il riposo di vaffanculo. Ok. E allora, andiamo a casa e ci alleniamo nel famoso punchbow. E allora, andiamo qua. Poi devo accumulare un po' di soldi, magari lo faccio off camera, per comprare qualche, magari, il tapirulan. Così abbiamo, veramente, un allenamento completo. Ok, questo però mi fa fare solo la velocità. Quindi allenati qua, che quantomeno è quello completo. Così saliamo quel maledetto resistenza 5. Sì, la resistenza. Oggi mi ricordo pure le abilità. E vediamo se riusciamo a portare, magari, la forza a 6. Che non sarebbe affatto male. Anche se, però, già si sta stancando. Perché, ovviamente, più che altro gli sta venendo fame. Però, fortunatamente, abbiamo i soldi. Ok, quella è arrivata a 5. Vai, porta quello a 6, ti prego. Perfetto, gli è venuta fame. Ok, andiamo velocemente a mangiare. Ok, la classica pizza, che non guasta mai. Sì, questo. Tanto l'umore siamo messi più che bene. Perfetto. Il combattimento ancora tra due giorni, va bene. Ok, quindi io direi, torna a casa. Sì. Il prossimo combattimento è domani, perfetto. Ci alleniamo un altro poco, così portiamo quello a 6. Vai così. È stanchino. Ok, allora, vediamo se questo lo fai. Perfetto. Quanto meno potenziamo quello. Ok, abbiamo portato... Va bene, fermati. L'agilità a 6, la forza quasi a 6. Ok, abbiamo bisogno però di mangiare. Quindi vado a guadagnare altri soldi. E ci rivediamo dopo. Ok, ragazzi. Disgraziatamente non avevo abbastanza energie per poter appunto guadagnare soldi. Oggi c'è il combattimento, io rischio e ci vado. Sicuramente mi infortunerò però. Ok, un avversario abbastanza scarso. Forza 1. Ne dobbiamo assolutamente approfittare. Allora mettiamo il montante. Ecco, va bene, la schivata va bene. E proviamo a vincere, ragazzi. Questo ve lo faccio vedere tutto. 125 di forza. Speriamo di farcela. Ora magari metto la pedata, anziché il pugno. Allora, già c'è il calcio basso. Però, anziché il calcio basso, mettiamo il calcio semplice. Ok. E come pugno io andrei a mettere il pugno alto. Ok. E proviamo. Vediamo magari se lo buttiamo a terra con una bella pedata. Anche se la vedo veramente scura. Fortunatamente lui è abbastanza scarso di forza, 1. Noi siamo abbastanza resistenti. Però sto consumando troppa energia. Quindi vediamo di ribilanciare il tutto. Energia 0, questo è energia 2. Quindi mettiamo questa di qua. Ok. E anziché sta schivata, mettiamo il blocco. Ok. E vediamo cosa succede. Non sarebbe male vincere perché così andiamo a salire un poco di classifica. Che però siamo in posizione 9. Che anzi comunque con tutti gli sconci persi non è affatto male. E allora mettiamo il calcio alto. Vediamo di cambiare profilo. E mettiamo il montante. Ok. Magari gli diamo un cazzottone. E lo buttiamo per terra. Vai, vai. Non gli sto facendo niente, assolutamente. E allora rimettiamo il calcio basso. E anziché il blocco ragazzi mettiamo la schivata. E che ho visto che sta finendo veramente male. E che comunque è scarso di forza però ha un sacco di abilità. Diretto triplo. Gancio. Attacco suicida. Attacco suicida bellissimo. Qua non abbiamo niente. Salta attacchi. Aumenta la probabilità di saltare gli attacchi. E lo scopo di recuperare energia. No. Io direi di non rischiare. Mettiamo il calcio alto. Anche se ho tolto la schivata. Orca miseria. Cretino. Vabbè. Dovremmo farcela ragazzi. Vai. Dagliano un altro. Un altro solo. Perfetto ragazzi. Abbiamo vinto. Finalmente. Ok. Abbiamo preso 5 di esperienza. 60 di umore. Meno 40 di salute. Cambiamenti in classifica più 44. Allora l'avevo letto male sicuramente. Allora bravo amico mio. Sei davvero inarrestabile. Eh. Ci siamo divertiti la volta scorsa. E noi dici di fare il bis. Sì sarebbe bello ma devo allenarmi. Benissimo. Andiamo. Eh. Io direi. Sì sarebbe bello. Non allenarmi. Va bene. Sì. Sono inassato un po' ogni tanto. Non andando a me. Sì. La statoria non andando al college. Va bene. Va bene. Non c'è problema. Rai. Passiamo al prima possibile. Rai. È proprio un tipo simpatico. Va bene. Allora. Aumentiamo le abilità. E direi che per questo episodio. Poi. Ci possiamo anche salutare. Io direi di mettere memoria muscolare. La forza non scenderà mai sotto il livello 4. Sì sì. Facciamo questo assolutamente. Perché la forza è abbondantemente importante. Ok. Ebbene ragazzi. Stavolta ci salutiamo da qua. Dalla palestra. Se vi è piaciuto il video. Vi invito a mettere un bel mi piace. Lasciare un commento. E condividerlo magari con i vostri amici. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo episodio di Punch Club. Ciao. Grazie.